Sempre in piena attività la Naica, un polo di attività importante, un punto di riferimento per il Levante cittadino, l'estate è all'insegno degli EduCamp. Sì, abbiamo di nuovo per il secondo anno partecipato al progetto EduCamp Coni, quest'anno ha grandissima richiesta per tutta l'estate, da giugno a settembre fino all'inizio della scuola e in più abbiamo aggiunto un percorso di educazione civica con la polizia, infatti la Questura di Genova ci ha affiancato il commissario di Nervi per iniziare un percorso di educazione, poi i bambini contenti di salire sulle volanti della polizia nei parchi di Nervi in collaborazione con la Proloco Nervi. Gli EduCamp sono anche fatti con l'Oasi Nervi per l'attività del tennis, per l'attività del calcio e attività di squadra abbiamo il nuovo nostro tecnico della Nike, Roberto Famò. Settembre sarà il mese di ripartenza per tutte le attività, soprattutto per la ginnastica. Ginnastica in primo luogo ha fatto un sacco di successi a Rimini, tra la ritmica e per il primo anno ginnastica artistica con la Serie D e partiremo probabilmente con il mini volley sempre con Roberto Famò. Importante quindi promuovere l'attività presso i giovani con i vostri istruttori? Sì, sì, il nostro staff tecnico comunque è sempre pronto alle novità, covid, no covid, preparato, qualificato, sempre aggiornato con corsi e soprattutto la maggioranza laureati in scienze motorie. Per mettersi in contatto con voi come si può fare? Social, quindi Facebook, Instagram, Youtube perché dalla quarantena abbiamo il canale Youtube e poi i nostri numeri di telefono e mail che trovate tutti sui social.